Bufera, ristrutturazione del parco di quartiere Cabaroncello, la questione approda il prossimo Consiglio Comunale. Noi ce ne siamo occupati qualche giorno fa dopo l'appello lanciato da Valentina Pasini, la mamma della nostra guerriera Beatrice Berti, che ha segnalato a Rete Veneta il mancato rispetto di una promessa fatta dall'amministrazione comunale in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche. Per rendere Bassano a misura di tutte e tutti e soprattutto per rendere onore a un lavoro fatto dalla giovanissima Beatrice, scomparsa a soli 14 anni e sempre in prima linea per una Bassano davvero inclusiva. E invece che fa chi governa la città? Nel momento in cui si deve ristrutturare un parco pubblico, non si pensa proprio a renderlo finalmente inclusivo. Quasi come una beffa, l'assessore Zonta dichiara addirittura che l'area verde non ha lo spazio adeguato per ospitare giochi adatti a chiunque. Ennesima risposta che ha fatto scendere in campo le opposizioni. Noi abbiamo chiesto proprio in occasione del prossimo Consiglio Comunale di avere alcune risposte. L'obiettivo è che ogni quartiere possa avere un'area giochi in cui ci sono anche queste strutture, perché attraverso queste strutture si fa integrazione proprio fin dai primi anni di vita. Scoprire, a meno che non ci siano mai smentite, ma purtroppo sappiamo che corrisponde la verità, che a Cabarocela in occasione di questo importante investimento non si è tenuto conto di questo, dopo che in Consiglio Comunale è stato votato il PEBA, non si capisce quale sia la ragione. E quindi temo che una ragione condivisibile stavolta non ci sia. È un'occasione persa a questo punto? È un'occasione persa perché non credo che poi a breve su quel parco giochi ci si rimetta a mano. E sono quelle le occasioni in cui far prendere agli spazi aggregativi della città una direzione diversa. Tra l'altro proprio nel quartiere dove viveva Beatrice, la nostra guerriera, che tanto ha fatto, tanto si è battuta per rendere Bassano del Grappo una città davvero accessibile a tutti e tutte. Questa è una coincidenza che fa ancora più male. Credo che purtroppo non ci verranno date spiegazioni sufficienti per spiegare questo tipo di inefficienza, questo tipo di dimenticanza.